Ancora degrado intorno alle cento fontane. Non c'è pace per uno dei più importanti monumenti storici di Torre del Greco. Poche settimane fa alcuni volontari avevano pulito l'intera zona da rifiuti di ogni tipo, ma l'inciviltà ha nuovamente preso il sopravvento. L'intera area circostante al sito è invasa da sporcizia e immondizia depositata illicitamente. Sia su via Fontana, che negli ingressi di via Calastro, sono stati ammassati cumuli di sacchetti. Ciò che sconvolge maggiormente, però, è la presenza di numerosi ingombranti. Pezzi di mobilio sono ovunque e circondano l'intera area, da cucine dismesse a pezzi di camere da letto, fino all'ormai solito materasso abbandonato. Tutti i scarti che sono stati abbandonati lì da giorni e mai raccolti. Ovviamente quello che colpisce maggiormente è l'inciviltà di chi, ostinatamente, continua a deturpare un patrimonio inestimabile per la città, utilizzandolo come una discarica a cielo aperto. Tuttavia, è assurdo anche che questa situazione si riproponga costantemente, senza che l'amministrazione metta in campo azioni per impedire lo scempio. Oltre a provvedere immediatamente a bonificare l'area in queste circostanze, urge un controllo diffuso e costante che blocchi sul nascere i comportamenti incivili. È assurdo pensare che ai piedi di Palazzo Baronale qualcuno possa depositare in disturbato un materasso usato, una cartolina negativa che continua a ripetersi.